In Calabria troppi giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni non studiano e non lavorano e quanto emerge dal Regional Yearbook 2018 pubblicato da Eurostat. Fra le 11 regioni con il più alto tasso di NIT in Europa, 4 sono del mezzogiorno, ovvero la Sicilia si è confermata anche nel 2017 la maglia nera in Europa con il 39,6%. Quindi seguono la Campania con il 38,6%, la Puglia con il 36,4% e la nostra regione, la Calabria, con il 36%. Dati quelle delle regioni del mezzogiorno, lontani anni luce del 2,7% dei NIT presenti nella regione di Praga, Repubblica Ceca, che guida la classifica europea precedendo ben 10 territori dei Paesi Bassi, dove il tasso di giovani inattivi viaggia fra il 4,6% e il 5,3%. La media dell'Unione è invece del 14,3%, in calo per il quinto anno consecutivo rispetto al picco del 17,2% raggiunto nel 2012. L'analisi dei dati sui NIT riflette l'immagine di un mercato del lavoro del mezzogiorno, da cui i giovani si sentono sempre più tagliati fuori, scoraggiati anche nella ricerca di qualsiasi impiego legale. Non stupisce quindi scoprire attraverso i dati Eurostat che fra le 5 regioni europee, dove meno della metà della popolazione, fra i 20 e i 64 anni, lavora ben 4, sono del mezzogiorno. Il record è negativo e ancora una volta dunque alla Sicilia seguono Calabria, Campania e Puglia.